C'erano anche cinque donne e una bambina nel veliero avvistato ieri a Santa Maria di Leuca, nell'Eccese, dai militari della Guardia di Finanza di Gallipoli. Un'imbarcazione a vela di 12 metri con a bordo 26 migranti è stata intercettata a circa 10 miglia a sud-est di capo Santa Maria di Leuca dall'equipaggio di una motovedetta della squadrilla navale delle Fiamme Gialle. Le unità navali hanno pattugliato sotto scorta il veliero sino al porto di Leuca, dove 26 migranti che dicono di provenire dalla Siria e dall'Iraq hanno ricevuto una prima assistenza e sono stati rifocillati. Sono tutte in buone condizioni, ad eccezione di una donna che, accusando dolori addominali, è stata condotta in ospedale per accertamenti. Sono stati trasferiti in pullman al centro di temporanea accoglienza ad Antonino Bello di Otranto per le procedure di identificazione da parte della Polizia di Stato. Sono stati sottoposti a fermo dalla Guardia di Finanza i due presunti scafisti di nazionalità ucraina di 47 e 43 anni. Con l'arrivo di ieri mattina del veliero carico di migranti irregolari, si è conclusa una complessa operazione di contrasto all'immigrazione clandestina, condotta in modo coordinato da unitario navale della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera.